Al via i vaccini per docenti e personale ATA questa mattina al centro sociale Pino Monaldi di Pesaro, le vaccinazioni sono partite in contemporanea anche al pala Carneroli di Urbino e domani, dopo la falsa partenza di ieri, continueranno anche al Codma di Rosciano. A Pesaro oggi per i rappresentanti del personale scolastico tutto è filato liscio, ad essi tutti under 65 è stata dedicata a un'apposita corsia preferenziale ed è stato somministrato il vaccino AstraZeneca. Lei si è vaccinata perché ha scelto di fare il vaccino? Perché cerco di evitare di prendere il Covid. La macchina ha funzionato bene? Sì, sì, appena sono arrivata mi hanno fatto, non c'era neanche la fila quindi tutto a posto. Per proteggere me stesso e gli altri. Quindi è venuto qui questa mattina, com'è andata? Ancora bene, bene, quindi non ho fatto male chiaramente, sono qua in attesa del quarto d'ora per vedere se ci sono effetti collaterali. Ho deciso di fare il vaccino appunto perché per una protezione, per me e per gli altri, è andata benissimo, adesso vado a scuola. Non ho sentito nessun tipo di dolore? No, no, niente, tutto a posto. Grazie. 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 Grazie.